un'epoca tu ti pescatori? figlio di tonno? vieni lato! dente di da sette chili! l'unica che pesca sono io! ciao 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 e non cazzo c'è neanche uno e allora e allora tutte le volte diciamo le stesse cose tutte le volte diamo lo stesso bando e lo prendiamo 4,8 kg lo squalo c'era lo squalo aspetta come la schiena aspetta 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 qua manca l'amo un altro 4 ore io vi dico che non è il ghiombo mi raccomando cerca di non fartelo scappare perchè mi pianti gli ami nella mano perchè mi pianti gli ami nella mano guardate che qui non c'è il ghiombo c'è un pesce grosso va bene faccelo vedere un altro la bevisci da stavolta non lo so però lo sento anche spero che voi non la sentivate sentivate? da dove è da dimostrare non lo so sperare e mi chiamici speri su un settentere non può essere solo il tuo oh salpa vediamo no 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 Grazie a tutti.